E' purtroppo deceduto il 51enne rimasto gravemente ferito per lo scoppio di una bombola di gas all'interno della sua abitazione nel centro storico di Petina. L'incidente, si ricorderà, è avvenuto nella mattinata del 14 giugno. Il 51enne è morto dopo una settimana di agonia nell'ospedale Cardarelli di Napoli dove era stato trasferito in elisoccorso. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, originario di Ponte Cagnano, da qualche giorno era tornato nella sua dimora nel centro storico di Petina. Probabilmente lo scoppio è dovuto allo spegnimento della fiammella della cucina con il gas che però è continuato a fuoriuscire. Una scintilla, forse l'accensione di una segretta, ha provocato l'esplosione. Sul posto, immediato l'arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina con il caposquadra Alessandro Morello e il personale del 118 per le prime cure al ferito. Poi trasportato in elicottero, atterrato sul campo di calcio di Petina, al centro Grandiustioni di Napoli in prognosi riservata. La forte esplosione, l'enorme bovato, ha provocato danni ingenti non solo all'abitazione dell'uomo ma anche alle case vicine. Esprimo cordoglio per questa enorme tragedia, ha reso noto il sindaco di Petina Domenico D'Amato e mi stringo al dolore della famiglia per la perdita del loro caro.